Mercedes-Benz è presente per la prima volta al 4x4 Fest, proprio in quest'anno importante per festeggiare il compleanno di classe G, 33 anni, un'icona nel campo del fuoristrada che rimane fedele a se stessa, si rinnova sicuramente nel design degli interni e anche leggermente negli esterni, ma nel DNA rimane la G che tutti noi conosciamo, anzi negli ultimi anni ha contaminato gran parte della gamma Mercedes. Vediamo il GLK, quindi un sul comparto 4,30 metri, perfetto per la città, ma chi non disdegna il fuoristrada e lo abbiamo visto qui nelle cave a Carrara, da 140 CV a 306 CV, nella versione più venduta in Italia siamo a 170 CV, tutte ovviamente motorizzazioni diesel, iniezione diretta e poi abbiamo anche la GL, quindi il fuoristrada extra large, sicuramente più adatto al mercato americano dove fra l'altro è il leader nel suo segmento di riferimento. Per premiare la passione e la competenza degli amici del G Club, il primo esemplare della nuova classe G italiana lo abbiamo concesso proprio a loro e lo hanno portato qui al Carrara Fest, mentre invece la GLK è possibile provarla sul circuito off-road organizzato dalla Federazione Italiana Fuoristrada.